Johnny, come vedi, ha la maglia dell'Italian Championship Wrestling, che è una federazione di amatori italiani, che è molto appassionata di wrestling. Devo dire che non c'è tanta gente come i vostri di show, eh Emilio? Siete un po' meno come spettatori, però sono molto appassionato anche loro. Fai la tua domanda a Dave. Ciao, hi Dave. Anche in italiano, così facciamo prima, vai. Tu sei un tipo che ama molto vestirsi all'italiana, elegante, chicoso. Cos'altro ami del nostro paese, dell'Italia? Poi te lo spiega dopo la diretta. Grazie Johnny. Stringi la mano a Dave, è un mito. Ok, grazie. So che gli piacciono le macchine italiane, ma guida una Mercedes. Ce l'hai ancora la Mercedes? So che ti piacciono le Ferrari, ma guidi la Mercedes.